è focalizzata naturalmente sul big match di domenica all'Aerosuole Forum arriva a Modena L'Ube che finora ha sempre avuto un cammino molto buono direi con quale spirito scenderete in campo? Vabbè scenderemo in campo come tutte le domeniche poi mercoledì che dir si voglia però insomma finora sta andando tutto bene speriamo di continuare la nostra striscia positiva ecco, logicamente ci aspetta una partita difficile contro Modena come quella appena passata contro Verona in casa e insomma speriamo di fare bene, speriamo di dare il massimo La tua prestazione, è difficile trovare spazio con Stankovic e Podraskan in davanti però ti sei fatto trovare pronto Sì, è difficile però diciamo che anche il gioco italiani e stranieri me lo permette di stare in campo comunque loro sono due ottimi, anzi super centrali che ho affrontato per tantissime stagioni d'avversari ora ce l'ho come compagni, cerco di apprendere qualcosa da loro e portarlo in campo Come ti trovi in questa cuscina Lube Banca Marche Civitano? Eh, bene, bene bisogna dare il massimo sempre perché insomma il roster che abbiamo è di altissimo livello i giocatori sono di altissimo livello e se non dai 100% tutti i giorni ti mangiano in testa Grazie! Grazie! Grazie!